aspetta ambra che c'è cosa ama mangiare sandy il radicchio il radicchio però la cosa che le piace di più dove vai il peperone e faglielo vedere faglielo un po vedere il peperone faglielo vedere così viene da te no il peperone fagli vedere che lei sente l'odore eccola non lo vuoi ma gli hai fatto vedere il peperone non lo vuole più quello poi i broccoli non gli piacciono a lei no neanche quello la l'arancia no neanche l'arancia si vediamo che fa vedi è faglielo infazzita la segue vieni 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 tranquilla ah ne l'ho dimenticata l'insalata e spinaci si voila questo è qua questo è qua vieni Wow Poi guardare